Riccardo Pozzoli, storico ex fidanzato di Chiara Ferragni, è diventato papà. Il lieto annuncio è stato dato domenica 7 novembre 2021 su Instagram dalla moglie dell'imprenditore, Gabriele Caunesil. I due, sposati dal 2018, hanno affrontato non poche difficoltà prima di diventare genitori. Ecco il commento della neomamma e ulteriori dettagli sulla nascita. Dopo qualche giorno di assenza dai social la modella e influencer francese Gabriele Caunesil ha rivelato ai suoi followers, più di un milione, di essere diventata mamma. Gabriele ha condiviso una dolcissima foto che la ritrae accanto al marito mentre tiene in braccio il suo bambino. Nato il 5 novembre 2021. Sotto al tenerissimo scatto la modella e imprenditrice 31enne ha rivelato il nome che lei e l'ex di Chiara Ferragni hanno dato al piccolo. Romeo. Quest'ultimo. Come ha scritto la neomamma su una storia Instagram. Acquisirà i cognomi di entrambi i genitori. La Caunesil si dice grata alla vita per aver ricevuto un dono così grande. Non nascondendo le difficoltà che ha affrontato. È stato un percorso difficile ma ce l'abbiamo fatta? Ha spiegato. La stessa foto è stata condivisa da Pozzoli sul suo profilo. L'imprenditore ha detto che, la vita ha acquisito un nuovo significato. Ringraziando la moglie. Sono tantissimi i commenti che hanno salutato l'arrivo del piccolo Romeo sotto al post Instagram condiviso dalla Caunesil. Tra i VIP che hanno fatto le congratulazioni ai neogenitori ci sono Beatrice Valli, Paola Turani, MR Daniel, Eleonora Di Vaio e Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez, attuale marito della Ferragni. Quest'ultima al momento non ha commentato, almeno pubblicamente, il lieto evento. D'altronde tra i due, ex fidanzati e ex partner in affari, non sembra scorrere buon sangue. Nel suo documentario, Chiara Ferragni un posted. Chiara Ferragni ha spiegato di aver chiuso i rapporti con Pozzoli dal 2018. Momento in cui lui avrebbe provato a vendere a sua insaputa il 45% delle azioni della sua società. TBS Crew. Proprio mentre la bionda cremonese stava per dare alla luce il suo primo giorno.